Scusate, è arrivato l'Europa, batte un colpo sul terremoto, l'Unione Europea dice siamo pronti a mobilitare tutti gli strumenti, piena solidarietà all'Italia, condoglianze di Claude Juncker alle famiglie italiane. La nostra solidarietà va bene. Se anziché la solidarietà ci dessero qualche soldo in più, secondo me sarebbe meglio. Io quello penso, quando parla di strumenti, speriamo si riferisse qualche soldo. Ecco, noi diamo 10, il nostro è un paese che dà 10-20 miliardi all'anno, l'Europa ne piglia 12, allora Juncker, la solidarietà, grazie, va benissimo, punto a capo, non c'è lo svincolo su parte di stabilità, ci dia i nostri soldi, perché quelli sono soldi soprattutto ai cittadini italiani che in questo momento servono.